Glenn Matlock arriva in Italia e regala ai suoi fans un improvvisato ed esclusivo showcase in acustico. Il grande ed indimenticato ex bassista dei Sex Pistols è stato graditissimo ospite dell'Art Rock Café di Roma, partecipando alla trasmissione Primo Spettacolo di Radio Città Futura in diretta dalla storica All of Music. L'artista si è esibito con la sua chitarra in alcuni dei pezzi storici della band e altri del suo nuovo gruppo The Philistines. Che cosa pensi della musica punk oggi nel mondo? Pensi che sia morta oppure è ancora viva? Noi non eravamo un gruppo punk, noi innanzitutto eravamo i Sex Pistols. Non ci è mai piaciuto il fatto di avere questo termine dato a noi e di conseguenza cerco sempre di essere presente nel gruppo in cui sto suonando, quindi il gruppo d'oggi, il gruppo degli altri anni, io stavo in quel gruppo. La cosa importante e fondamentale di cui sono orgoglioso di essere fondatore è il fatto che rimane questa mentalità punk, che quella è la cosa importante di non essere presi in giro, di capire le cose per quelle che sono e di reagire.